Primo ospite di giornata che è il presidente della WISP, Vincenzo Manco. Buon pomeriggio presidente, ben ritrovato su Radio 1 Sport. Buon pomeriggio e grazie a voi, grazie a voi per il dito. WISP che insomma in questi giorni di grande confusione mi verrebbe da dire nel mondo dello sport dopo l'emanazione dell'ultimo DPCM che insomma appone anche per il mondo dello sport nuove limitazioni insomma ha cercato anche lei in prima linea anche oggi con un comunicato di insomma da una parte sottolineare forse anche i limiti troppo stringenti quantomeno dal vostro punto di vista e dall'altra di avere un'uniformità perché poi insomma stiamo vedendo in questi giorni che all'interno delle leggi le varie federazioni si stanno muovendo un po' in maniera sparsa diciamo così. Sì, intanto come WISP continuiamo a dire che abbiamo tutta l'intenzione di rispondere in modo responsabile a ciò che sta accadendo perché credo che questo comportamento da parte di alcuni organismi sportivi non tenga poi conto che l'emergenza Covid ancora la stiamo vivendo tutta ma nello stesso tempo noi siamo rappresentanti di una moltitudine di soci di circa 15.000 realtà associative di base e sentiamo tutta la responsabilità di dover comunque rappresentare questo mondo e dire che le ricadute di quel DPCM sono sicuramente pesanti e abbiamo avuto la necessità quindi di dire alla politica, al governo soprattutto di intervenire con un sostegno particolarmente consistente perché davvero il movimento, lo sport di base soprattutto è in ginocchio e abbiamo stigmatizzato comportamenti da parte di federazioni sportive di altri enti di promozione sportiva, di organismi sportivi che onestamente non ci piacciono che sono atteggiamenti surrettizi che vogliono salvaguardare ciò che il DPCM consente ma che magari fino a qualche tempo prima quegli stessi organismi sportivi non organizzavano. Ecco, quali sono le attività più penalizzate parlando proprio di sport di base? Ma sicuramente le attività più penalizzate come dire sono tutte le attività diciamo sportive di base possibilmente che noi sostanzialmente possiamo fare visto che le piscine, le palestre sono chiuse se non per la possibilità delle competizioni appunto di interesse nazionale ed è un modo per poter davvero creare una falciglia pesante su quello che è l'attività che noi soprattutto rappresentiamo ecco che questa è una difficoltà davvero enorme. Credo che su questo ci sia anche un elemento culturale che questo paese deve superare. forse lo sport è ancora considerato come abbiamo detto in questi giorni dopo lavoro è considerato a tempo libero e non ancora un vero e proprio progetto di vita delle persone. Il Presidente del Consiglio ha detto vogliamo salvaguardare, tutelare sia l'economia che chiaramente la salute in una situazione difficile. Beh, lo sport è una perfetta sintesi, è ancora di più lo sport sociale, è una perfetta sintesi di questo. prevenzione e promozione della salute è appunto economia, lavoro, impresa e impresa sociale, economia sociale e lavoro e sostegno alle famiglie attraverso quel lavoro che noi comunque consentiamo ai vari collaboratori sportivi e quant'altro. Eh sì, anche perché poi giustamente come ha sottolineato lei Presidente spesso si pensa ma lo sport insomma o da una parte i professionisti iperpagati, strapagati che poi in realtà sono sempre quelli del calcio, esatto, o pochissimi. Dall'altra non si pensa a tutto quel sottobosco, peraltro con tutta una serie di anche contratti particolari molto poco tutelati che però insomma fanno di quello che per molti magari è ricreativo e peraltro insomma non è che quello che è ricreativo è male a prescindere insomma a un vero e proprio lavoro. Assolutamente così, noi abbiamo anche ieri nel Consiglio nazionale del CONI come WISP lanciato anche approfittando di questa situazione la necessità per esempio di ragionare sul vero e proprio l'abbiamo definito dizionario dello sport e della pratica sportiva, insomma tra i vari DPCM si confonde ciò che è il senso legislativo della definizione di qualche attività sportiva da quelle che sono le categorie anche sociologiche sulla pratica sportiva. Faccio un esempio, si è parlato di sport amatoriale, per sport amatoriale nel DPCM abbiamo inteso la cosiddetta partitella tra amici, diciamo nella condizione anche nell'immaginario collettivo il termine dell'amatorialità è tutto ciò che noi anche enti di promozione sportiva, la WISP ha rappresentato e rappresenta fino ad oggi per ciò che riguarda l'attività come è definita nei regolamenti degli enti di promozione sportiva che riconoscono gli enti di promozione sportiva attività non agonistica seppur in forma competitiva, quindi tutto ciò che noi comunque facciamo e organizziamo nella nostra quotidianità nei vari campionati, tornei, iniziative, manifestazioni appunto che possono riguardare il calcio, la pallavolo, la pallacanestro e quant'altro ma in questo stato c'è una legge che definisce cos'è il professionismo e tutto l'altro che è considerato direttantismo, mentre abbiamo davvero bisogno di andare a studiare e a comprendere molto meglio e il Covid ne è un'occasione almeno da questo punto di vista aggiungerei purtroppo, ma di fatto lo è, per poter capire come le federazioni sportive organizzano i propri campionati e le proprie attività così come fanno gli enti di promozione sportiva e le discipline sportive associate, su questo abbiamo sottolineato ancora di più con forza la necessità di procedere e di andare avanti verso il riordino del sistema sportivo, il testo unico di cui si sta parlando e che si sta discutendo in questi giorni, noi continuiamo a dire che abbiamo la necessità che ci si metta mano e che si capisca bene chi fa che cosa, stabilire bene gli ambiti di attività e questo è il senso proprio di un riordino da mettere in campo su tutto il comparto sportivo che noi ancora ospitiamo. Ecco, visto che l'ha citato proprio lei Presidente, nel consiglio di ieri del CONI è stata votata all'unanimità ma con l'astenzione degli enti di promozione sportiva, quindi insomma proprio di voi questa risoluzione in cui viene chiesto al Presidente Malagò sostanzialmente tra virgolette, semplifichiamo, ma insomma di proseguire questo muro contro muro se mi passa il termine con il Governo su questo testo della riforma dello sport che non convince tante federazioni, voi evidentemente avete una posizione vista l'astenzione leggermente diversa quantomeno. Io glielo consento benissimo l'espressione muro contro muro perché fin dall'inizio la WISP e poi anche con questa ulteriore astenzione gli enti di promozione sportiva hanno voluto proprio affermare il fatto di non aver condiviso mai questo atteggiamento da parte del Comitato Olimpico Nazionale di escludere comunque ogni forma e ogni tentativo di rapporto nel poter ragionare di un'eventuale riforma. In quel documento come era nel primo, anche se qui chiaramente la forma è diversa, le intenzioni sono diverse, c'era l'idea di aprire una negoziazione con il Governo indicando però una strada del cosiddetto intervento legislativo ordinario, insomma nella sostanza di dire bene, mandiamo la palla in tribuna per tutto ciò che riguarda il posto unico, immaginiamo un disegno di legge e su questo caro Governo siamo disponibili a poter ragionare. Noi ci siamo attenuti su questa idea, invece pensiamo come dicevo prima che ci sia bisogno ancora di più e di accelerare i tempi per advenire ad un riordino, ci siamo attenuti, non potevamo chiaramente votare contro perché in quel comunque documento ci sono delle richieste nei confronti del Governo che riguardano il ristoro appunto dell'associazionismo sportivo di base, interventi consistenti dal punto di vista delle risorse e questa ci sembrava chiaramente una parte che anche noi vogliamo e dobbiamo assolutamente sostenere, quindi non a favore e non contro ma un'astenzione che giustifica di fatto queste due nostre posizioni rispetto a quel documento. Tornando un attimo alla questione del DPCM c'è anche un vostro comunicato molto duro delle scorse ore, no ai furbetti dello sport. Sì, perché abbiamo voluto appunto stigmatizzare sostanzialmente questo, insomma è evidente che soprattutto da parte di alcune federazioni e di enti di promozione sportiva che non hanno l'attività di interesse nazionale rispetto anche ad alcune categorie, insomma è evidente che si fanno partecipare anche come dire giovanissimi a campionati di interesse nazionale, cosa che sappiamo tutti non accadere e invece tutto questo nelle varie delibere dei consigli nazionali dei rispettivi organismi sportivi sta accadendo. L'abbiamo voluto stigmatizzare e abbiamo sempre detto che tutto ciò che diventa di interesse nazionale anche per quanto riguarda il DPCM del 18 di ottobre, come noi abbiamo sempre fatto e come abbiamo detto al Ministro in un incontro specifico che abbiamo fatto con il Ministro Spadafora, valgono le norme di partecipazione, quelli che sono i calendari che sono stati emanati appunto ad inizio della stagione, così evitiamo le furberie e ci mettiamo come dire tutti nello stesso livello, rispettiamo le norme, rispettiamo la salute dei cittadini e nello stesso tempo chiediamo ristori e gli interventi perché ci sono stati forti investimenti perché si potessero rispettare i protocolli, le guida, tutto ciò che c'è stato richiesto per la sicurezza e la salute dei partecipanti e dei cittadini e dei cittadini. Insomma sintetizzando la posizione della WISP è forse restrizioni anche eccessive o quantomeno otteniamo conto di chi avrà dei danni da queste restrizioni, però poi nel momento in cui una regola c'è, piaccia o no, vediamo di rispettarla insomma, no? E' di trovare forme di rivendicazione che sono appunto diverse, ieri abbiamo sottolineato nel Consiglio Nazionale del CONI, insomma se costantemente diciamo che lo sport insegna il rispetto delle regole soprattutto alle nuove generazioni, insomma quel luogo deve essere il primo a rispettarlo perché altrimenti c'è qualcosa che non torna sul piano della coerenza. Noi come WISP invece vogliamo essere coerenti soprattutto nel patto etico, quindi non solo nel patto sportivo e sociale che abbiamo con i nostri soci, con le nostre ASD ed SSD, ma soprattutto con il Paese. La WISP come tutti gli altri organismi sportivi intercetta risorse pubbliche, risorse di tutti i cittadini, a quelle risorse noi vogliamo rispondere in modo corretto e coerente. Nello stesso tempo pressione, negoziazione, rappresentanza nei confronti del Parlamento e del Governo perché arrivino misure al ristoro che diano il senso vero di quel rispetto delle norme che quindi possano ristorare anche quello stesso rispetto. Chiarissimo, grazie al Presidente della WISP Vincenzo Manco per essere stato con noi. Buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a voi, grazie davvero.